Un bel criminosso da rilevare Questo dovrebbe essere il numero 11 Frequenta siti porno fetish Lui non è pagato le tasse in 1820 infatti Potenziale vittima Probabilità di crimine, ok Non posso armarmi L'ho preso Certo che l'ho preso E tra l'altro vittima anche Ancora intera quindi Vittima è lesa, buonissimo Cioè invece che ringraziarmi scappi così Grazie eh, molto riconoscente mi dicono Signori miei abbiamo un rilevamento crimine qua A Brandon Docks E allora noi andiamo a farlo Scendiamo qui E saliamo di qua Tanto io hackero Togliamoci di mezzo magari Toh Nascondiglio perfetto Oddio forse Meglio se mi avvicino un po' Ehi, a che gli prendi? Beh, non sono contento Hai fatto una cazzata Ehi Preso Vittima in lesa No, ho ucciso Come ho ucciso la vittima? Ma come raga ho ucciso la vittima? No Peso Cosa vuoi fare tu? Stai zitto Che io Ho salvato la vita A una persona che ha ucciso Comunque crimine Neutralizzato E ce n'è un altro qua vicino E lo andiamo a fare ragazzi Per forza Magari questa volta vediamo di essere Un pochino più efficaci Ecco Ok Devo stare attento Non dovrebbe essere lontano Fammi fare così Non puoi mangiarmi l'anima Ma che diavolo ha Che non va Mi hai mangiato l'anima Ehi No Preso Vabbè Vittima non in lesa però Un altro L'abbiamo portato a casa Reputazione aumentata E ciao Attenzione perché qua c'è un altro crimine Dai ne mancano più Non tantissimi Vabbè che quello Uno è la vittima E l'altro è l'aggressore Quindi mi devo nascondere per forza Intervieni Vabbè la vittima è l'esa Dammi questa macchina Dammi questa macchina Non ha quanto pattina però Eh ma corre di più la mia Vaffanculo L'importante è darci un limite Più o meno di 200 metri Sull'allontanamento Del sospetto Ovviamente chi è che la prende nel culo Mua Ma un punto per neutralizzarlo Qualcosa Un dissuasore Nulla Ma si fa a sparare Non si spara Ok vabbè Qualcosa abbiamo fatto Va incastrato raga Va incastrato Va incastrato Non castriamo così Che cazzo è che chiama Vaffanculo Ci viene ucciso ma È servito a qualcosa Nulla via Fermo 9-1-1 L'emergenza prego Non so cosa fare Devo andare Pronto Per favore Stai zitto Un altro Ma tu ma Puttana Dito di chiamare Oh E devo ammazzare tutti Ditemi voi Eh abbiamo due crimini Che palle Uno attaccato all'altro Va bene Va bene Solveremo la situazione Sperando che l'altro Poi sia ancora attivo dopo Tanto Tetiakero Mi dà 880 Dollari E siamo a posto Ok Via Telecamera Lì Ok ci siamo Il bersaglio è molto vicino Mi direi che la minaccia è lui No Ok Continuiamo a raccogliere soldi Ma in realtà E' sta donna Bene Non sono contento Hai fatto una cazzata Andiamo Non fai Pensi che non ti ammazzerò Bene Crimine neutralizzato E vittima illesa Tra l'altro Cosa non da poco 15 Su 20 Sventati E a questo punto Andiamo anche al sedicesimo Ragazzi Perché E' qua vicino E allora Che fai Non ci vai Certo che ci vai C'è una telecamera Sì Ok Sto ubriacone Oh Ragazzi Gli ubriachi Sono sempre Quelli che fanno Più danni Nei videogiochi Lui è la vittima Allora Sì Ok Di qua Lo prendo bene Si capisce Quando menti Ti conviene Non provarci Avanti Andiamo Ma Hai problemi Ma che problema Preso Intervenuto Vittima Illesa Ancora E sono 16 su 20 Crimini Sventati Beh Direi Lamentatevi Due vittime Illese Di fila Non male Dopo che L'ho uccisa Io prima 17 Crimine Da rilevare Ragazzi Siamo veramente Forse I crimini Sono quelli Dove siamo più avanti Però Magari Nasconditi Ecco Merda Merda No 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 Non ho tempo Dovrai trovarlo Invece Se vado Mi licenza Aspettano solo Di avere Una Tra l'altro Sono nel mezzo Veramente Del cerchio Sono facilmente Sgamabile Qui Quando ho scoperto Che gliel'aveva detto Sei sicura Di non avere Nessuna idea Non so Di cosa stai parlando Non hai visto La mia Tanto noi facciamo Soldi a palate Ma non è Quello che ci serve Il posto è questo Se decide di agire Sarai in questa zona No Decide di agire Ma senza di me vicino Ok Va bene Bene È vicino Ora devo solo Trovarlo L'abita di crimine Vediamo se riesco a mettermi qui Ok va a molestare la donna Sicuro Sicuro E invece no Tanto ti acchero Ti sa mai È appunto per 1040 Interveniamo Vieni 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 Ti piglio 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 Ragazzi Su 20 Mancano Tre crimini Da rilevare Criminale Criminale Neutralizzato Reputazione aumentata Non so se la vittima fosse illesa Ma comunque Ci importa Ci importa di poco Perché praticamente conta solo Per la reputazione Diciottesimo crimine Da rilevare C'è qualcuno che posso acchierare Qua no Di solito come sapete si trova sempre al centro Del Raggio luminoso Senza la vittima Cazzo Ok Riminaccio Le posso controllare Solo così Ok Il crimine è lui Il criminale insomma Lucky Queen ti manda i suoi saluti Basta Qualcuno mi aiuti Aiutato Che sta succedendo Prego Ti prego Ti hai aiutato zio Mi deve ringraziare che sei anche illeso Oh Ne mancano Due Ragazzi Penultimo Crimine da rilevare Poi avremo Ancora uno E poi concluderemo Questa parte di missioni secondarie No no zio Non ho niente Contro di te Che lui è potenziale vittima Tu devi stare sotto Solamente quando ho fatto Cheat Ok Dovevi proprio rimanere qui eh Ehi Laggiù Preso Vittima illesa Crimine neutralizzato 127 dollari sballeggiati Reputazione che cresce 19 Crimini rilevati Su 20 Ragazzi Ventesimo E super Ultimo Crimine da rilevare Vediamo qua cosa vogliono Essere vicino A tutti La potenziale vittima Perfetto Abbastanza easy Però Dov'è L'assassino È lui Che palle La mia telecamera va Anzi è là dietro quindi non posso neanche prenderla Che famo Si è glicciato Non si è più glicciato Vai Vai a fare quel che devi fare Che io poi concludo Responsabile poligono di tiro Robot Robot Ovunque Meglio se ci ripensi E meglio se ti fai gli appori Sventato Vittima illesa Crimine neutralizzato ragazzi 20 su 20 Abbiamo ufficialmente Terminato qui Tutti I crimini Da sventare Vittima illesa Vittima illesa